Oltre 100 opere in concorso selezionate tra 700 pellicole, registi da 48 paesi di tutto il mondo, 5 giorni di proiezioni, incontri con gli attori e dibattiti ospitati nel cortile del quadrilatero universitario. Sono i numeri della sesta edizione della rassegna cinematografica Sardinia Film Festival, il premio internazionale dei cortometraggi organizzato dal Cine Club Sassari. Un palcoscenico unico per le nuove eleve e per chi già si è aggiudicato riconoscimenti importanti come il David di Donatello. Ma la rassegna rappresenta anche un appuntamento per gli amanti del cinema in una città come Sassari, dove tre sale sono a rischio e chiusura e dove spesso gli spazi disponibili non vengono valorizzati per fini culturali e sociali. Da qui la proposta del presidente del Cine Club di trasformare l'ex matatoio di Sassari in una cittadella del cinema, un luogo che racchiude in sé una scuola sperimentale di cinematografia, un centro culturale per mostre ed esposizioni. Un'idea che sembra aver convinto i cittadini. In pochi giorni sono state raccolte numerose firme. La petizione per individuare uno spazio pubblico sarà presentata al sindaco e alla giunta comunale. Grazie.